C'è mai stata un'invenzione più bella dell'automobile? Da quando esiste, ha reso la nostra vita più piacevole e ha contribuito alle grandi rivoluzioni della società. Nel modo di viaggiare, nel modo di trascorrere il tempo libero, nel modo di acquistare, nel modo di vivere e nel modo di stare in famiglia. Ma oggi è ancora in sintonia con la società. Perché qualcuno può viaggiare mentre altri possono a malapena spostarsi? Perché godere della nostra vita oggi implica una minore qualità della vita domani? Perché il piacere di alcuni deve pesare sulla vita di altri? È perché solo pochi possono beneficiare dei vantaggi del progresso. Noi dire no crediamo che sia ora di cambiare le cose. Crediamo che il piacere di un viaggio non debba essere solo di chi guida, ma di tutti quelli che lo circondano. Crediamo che il riscaldamento del pianeta non sia solo una questione di gas di scarico, ma una sfida da affrontare nella sua totalità, prima, durante e dopo. Crediamo che sicurezza non significhi utilizzare manichini nei crash test, ma impegnarsi per salvare persone e vite. Crediamo che il vero progresso garantisca gli stessi benefici a tutti. Crediamo sia ora che l'auto ci guidi di nuovo verso un futuro diverso, nel rispetto delle persone e della vita. Renault. Drive the change.